Lecce è un gigantesco teatro a cielo aperto, una città palcoscenico in cui ogni giorno i suoi abitanti portano in scena la loro quotidianità. Qui anche il pubblico è d'eccezione. Le statue del barocco leccese che dall'assù osservano sorgnone gli intrecci nei poveri mortali per lo più raffigurano santi e personaggi surreali e sono state create per ricordare che si trova a passare per queste vie che esiste un altro mondo al di là di quello dominato dalle regole della fisica. In questa città antichissima trascendere il reale sembra essere una necessità fisiologica. Tutti i popoli che hanno abitato al Salento hanno sviluppato un proprio modo per accedere alla metafisica delle cose. Lecce è la sommatoria di queste esperienze, un contenitore di storie unico al mondo che ho provato a documentare nei miei racconti metafisici leccesi.